Sì, ti dice vabbè, com'è che si muove? Era inverno però. Sì, sì. Cos'era? Marzo? Febbraio? Allora, il primo risalto aperto, calato in Bel Dio. Allora, ci cerchiamo, eh? Pronti? Ok. Allora, dai, dai, dai. Allora, dai, 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 dai. Allora, dai, dai. Allora, dai, dai, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.